bello ragazzi mitici 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 amici miei trofeo sorgole velocemente ve lo fa vedere marco drum games trofei hunters allora ragazzi i trofei li potete fare tranquillamente durante tutto il gioco durante tutta la vita del gioco non scrivete nei commenti sì marco ma se io faccio i campi questo trofeo viene fuori da solo e certo ragazzi è questo lo scopo del gioco ma se siete dei cacciatori di trofei fate come vi dico io contenuto scaricabile certo no guardate multi ok scaricate multi fruit booking station ok io ho già installato installato carriera prendete il vostro salvataggio io ho fatto un salvataggio prova raga e mi raccomando di mettere anche il government subside ok i cartelli che vi fanno guadagnare i soldi vi create la vostra bella farm mettete la vostra bella casetta il cartelli aspettate con un po di soldini così riuscite avere soldi abbastanza per fare tutto e andiamo a farvi vedere come farlo io vi faccio vedere tutti i passaggi ma tutti i miei video fatti così sono sono identici nel senso che una volta che voi fate la farm coi cartelli avete i soldi non c'è problemi cane ciao cagliolino ciao ciao e vola questo cane bellissimo allora avete la vostra bella farm la vostra bella casa mettete i cartelli per i soldi e siete a posto allora qui siamo elm creek andate 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 la parte bassa della mappa eh andiamo un attimo perché io sono un sacco di trattori io volevo il cavallo dov'è il mio cavallo allora vabbè niente compriamo prima il camion camion man lo voglio di colore blu così almeno lo so compriamo ok poi andate a comprare il carretto crampe sks 30 10 50 ok ok quindi andiamo oh eccolo qua il mio cavallo l'avevo parcheggiato qui allora andiamo a prendere e vi faccio vedere il punto della mappa dove fare questo trofeo raga vai ok allora noi siamo qui no aspetta che vi faccio vedere con l'altra mappa noi siamo qui ok il venditore qua qua siamo su elm creek voi comprate questo campo qui davanti per fare tutto il resto dei trofei invece questo trofeo lo andiamo a fare qua comprate il campo 70 e qui dove c'è il posto dove si vende quindi andiamo insieme fino al campo 70 come tutte le volte vi ripeto raga i trofei potete farli tranquillamente senza correre però se volete giocare in modo tranquillo senza avere lo stress di portare la roba fare le cose particolari o queste cose qui seguite i trofei di marco di la guida di marco drums games trophy hunter trophy hunter cacciatore dei trofei io li faccio fare così fate in fretta ok o magari non vi piace fare il concime dei gli animali o magari per tante motivazioni ok magari sono certe cose che sono un po noiose e non non avete voglia di farle non vi piace vabbè io parlo a parlare con voi compagliate non è di qui era sullo stradone di là però vabbè dai che bello ma che vei posti che vi faccio vedere ok la mappa finisce qua vei posti grande drums bravo devo farvi vedere quanto sono bravo a girarvi col mio camion ok quindi andiamo di qui diciamo che era lo stradone prima per andare al campo 70 allora andiamo qui a sinistra stradone no qui a destra stradone sinistra ok un altro mega trofeo e fare mille chilometri col camion e quindi se anche normalmente si farà col tempo portando tutto il nostro mangime il nostro frumento tutto quello che noi andiamo a produrre oppure girate fin quando ve lo da come girando tutte le vostre mappe vedete comunque sono tutti trofei abbastanza semplici che si possono fare tranquillamente facendo i campi quindi niente di assurdo io invece vi sto facendo vedere un modo veloce per farli subito quelli che magari sono un po più noiosi per voi che magari non avete tanta voglia di fare ecco e siamo qua ok campo davanti al campo 70 a questa a questo a questa fabbrica che prende e compra i vostri prodotti agricoli ok andiamo a costruire edifici silos container multi fruit buil station ok io vi consiglio di metterlo qui tac andate col vostro bel camion sul multi fruit il trofeo è sorgole i miei cavalli ne vanno matti ok raga una volta che è carico fate questo per 9 10 viaggi potete farlo tranquillamente con la vostra farm tranquillamente questo è un modo veloce di fare questo trofeo che magari il sorgo non lo piantate mai e non avete voglia di stare aspettati ok aprite vendete il vostro sorgo al 9 10 viaggio che fate vi da il trofeo sorgole ok ragazzi da marco drums games channel trophy hunter è tutto al prossimo video ci vediamo mi raccomando di seguirmi su youtube facebook twitter instagram tiktok twitch ma la cosa più importante è mettere un mi piace commentare attivare la campanellina se volete se vi piacciono i miei video se volete supportarmi con youtube e twitch ragazzi e mi raccomando di portare gente sul mio canale vi ringrazio alla prossima questo è il trofeo sorgole da marco drums game channel ciao ragazzi ciao